I giusti delle nazioni, chi sono e il contesto di questa mostra? Questa mostra che è stata realizzata dall'Istituto Yad Vashem di Gerusalemme ha come tema i giusti tra le nazioni. Il messaggio che i giusti tra le nazioni portano ancora oggi a oltre 75 anni dalla fine della Shoah e della Seconda Guerra Mondiale è quello della scelta. L'associazione Fili della Shoah che presenta questa mostra ha voluto fortemente portare oggi questo messaggio che è un messaggio contro l'indifferenza. I giusti tra le nazioni non erano eroi, non erano santi, ma erano persone semplici che avevano scelto in quel momento, in quel momento di persecuzione e di scegliere, quindi di aiutare il prossimo a rischio della propria vita. È un messaggio secondo noi estremamente forte e significativo anche per le giovani generazioni e quindi è quello di non voltare la testa dall'altra parte, ma di aiutare il prossimo, nonostante la sua religione, nonostante il suo credo politico e nonostante la sua provenienza. Insomma un aeroporto è un luogo di partenza, un luogo di arrivi, un luogo di incontro e anche un luogo di riflessione in questo caso. Sì, anche quest'anno la SEA a fianco dell'associazione Fili della Shoah, l'Inate ancora una volta ospita una mostra, una mossa per non dimenticare. durerà tutta la settimana della memoria di Milano e noi siamo veramente contenti di questa iniziativa. La mostra è accessibile a tutti perché è posizionata in area all'inside, quindi prima dei filtri di sicurezza e oggi si può anche visitare, prendendo appunto la metropolitana che come sapete è stata inaugurata lo scorso novembre e quindi tutti possono venire qua a visitarla. Si trova appena entrati nel terminal arrivi, si prende un nuovo collegamento verticale con scale mobili e ascensori e si arriva in questa nuova area, area che è stata tra l'altro riqualificata nel corso del progetto di riqualifica di Linate e oggi ospita questi pannelli dove si racconta appunto della storia dei giusti tra le nazioni che hanno salvato tante vite umane. Un aeroporto particolare perché Linate è la città, è dentro la città e quindi è un luogo di transito molto elegante, molto bello e anche che induce al pensiero e secondo me di questi tempi riflettere sul nostro passato, sugli errori, siccome ripetiamo i medesimi errori è del tutto rilevante e credo sia molto opportuno l'inaugurazione di questa mostra in un luogo così simbolico. Luoghi di passaggio, quale altre iniziative ci sono come Comune di Milano appunto in questo momento per la giornata della memoria? Beh dunque, ieri hanno posizionato, l'altro ieri anzi, le pietre d'inciampo, facciamo un'iniziativa molto importante al binario 21. Da domani credo il tram che riporta la data del 27 di gennaio girerà per le strade della città. Perché? Perché è importante che le persone continuino a vedere, a ricordare e a usare questo come monito per il futuro.